Nel corso della notte a Vittoria è stato fermato il presunto autore dell'accoltellamento di una donna di 37 anni, Brunilda Alla, di origini albanesi, poi deceduta per la gravità delle ferite. L'uomo che avrebbe già confessato sarebbe stato individuato con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza puntate sulla zona dell'aggressione. Le indagini proseguono anche per risalire agli ultimi contatti della donna prima dell'accoltellamento. Da una prima analisi dei fatti, sembrerebbe un delitto senza movente. Se ne saprà di più nelle prossime ore, dopo che gli inquirenti avranno un quadro più chiaro dell'accaduto. Chi conosceva Brunilda Alla, mamma di due figli, la ricorda come una donna attaccata alla famiglia, con un grande senso di responsabilità.